Easy Chitarra Orchestra questi sono brutti maestro e allora signori buon ascolto, grazie per sapere quando alla casa è già ricorda degli esseri umani, credo degli esseri umani credo degli esseri umani che hanno curato 40 di esseri umani sono bravi sì, ricordiamoci che vanno dai 6 ai 10 anni sì, la maggior parte è dai 6 ai 10 c'è qualcuno più grande ma la maggior parte sono delle 10 Sì, c'è qualcuno più grande ma la maggior parte grazie